Le sono molto grato, caro dottore, per tutto ciò che lei ha fatto per me. Vivevo con la mia famiglia e con la zia, e mi perdevo e non sapevo perché, lei disse la sua malattia è un caso di schizofrenia, infatti ero proprio fuori di me. Poverino la mia mamma, poverino il mio papà, tutto quello che hanno fatto per la mia felicità. Poverina anche la zia, quanto mi ha voluto bene, e i parenti quante pene, quante lacrime per me. Le sono molto grato, caro dottore, per sempre mi ha salvato dalla follia. Sto proprio bene, ho le idee più chiare, capisco quasi tutto, anche la zia. Ora sono lucido e cosciente, controllo bene la mia mente, le scrivo da un ufficio di polizia. Ho ammazzato la mia mamma, ho ammazzato il mio papà, ho ammazzato anche la zia, per la mia felicità. Ho ammazzato i miei parenti, può capirmi solo lei, l'avrei fatto da bambino, meglio tardi che mai. Grazie dottore, ora sto veramente bene, sono proprio guarito.